Quest'uomo è un mammuttone. È nato sui ghiacciai della Scozia milioni di anni fa. E non è il solo. Ce ne sono altri come lui. Altri erbivori e altri carnivori. Da secoli e in lotta contro l'ignoranza, le sue massime sono l'unica arma per portare l'umanità sulla retta via. Il solo modo per ucciderlo e privarlo della zanna. E così dei suoi poteri. Alla fine ne resterà soltanto uno. Il suo nome è Boros Obdut del clan dei Mammut. E' bravissimo. E' bravissimo. C'è un dibattito molto accanito su... Bravissimo. 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 Prima. Grazie a tutti